facci sognare ecco, quella non c'è più quella non c'è più vediamo al Robby se ce la fa vediamo al Robby se ce la fa guarda bene e allora uno è andato adesso vi tolgo quello là vi faccio fare quei due là no, è fatto non è facile c'è la pianta esatto, ma adesso vi libero i due là quelle che avevamo preparato ai tempi adesso vi faccio fare questi guarda che cazzo fai la donzelletta viene dalla campagna questi sono un po' più piegati adesso facciamo questo è la mia robigna è la? no, basta che cazzo stai facendo? che cazzo non ha Robby? che cazzo devi fare? là, vedolo là ma va che veramente devo togliere questo aspetta un momento aspetta un momento bene situaz qui cazzo qui cazzo sì